eccoci qua ritornati per ricominciare da dove abbiamo lasciato con i nostri allievi oggi ci troviamo a valle a camiglietello silano la pista è perfetta ma noi aspettiamo l'apertura ufficiale intanto iniziamo con le nostre lezioni al campo scuola da qui a breve vi faremo vedere intanto come avete visto hanno già iniziato diciamo i riders quelli impazienti a salire a salire a piedi vi faccio vedere sono dietro alle mie spalle li vedete che stanno salendo grandi grandi sono veramente due persone fantastiche loro non hanno bisogno di impianto di risalita sono veramente instancabili stanno per salire per poi iniziare a fare la prima discesa della stagione ci vediamo da qui a poco ecco qua che ritorna totò ritorna per riprendere le sue lezioni di snowboard eccoci qua che ricominciamo eccoci con antonio sulla tapirulan riprendono le discesine di prova l'approccio alla neve per poi salire in pista oggi campo scuola cerchiamo di ricordare e Grazie a tutti. Grazie a tutti. Braccia larghe, vedi che cadi, piano, ok, vai, continua, stop, schiacciando col sedere, senza guardare giù, stop, ok, piano, cambio, cambio. Guarda questa, se non ci guardi, stop. 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 Adesso guarda, guarda le mie gambe, piega in avanti, schiaccia, vedi che ci si alzano i talloni. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.